Siamo in diretta Ok Dio signori Finale NBA Kobe Tornato all'infortunio Di tipo 8 mesi Oh lasciami Ma porco zio Scusa Eh adesso ho perso il filo Ah si Kobe Tornato dopo l'infortunio Riporta i Lakers in finale E' pronto Siamo i supplementari Contro Beh non lo so Tipo Boston Potrebbe starci Aspetta Devo ancora finire Tipo Boston E Los Angeles Dove sono? Sono dall'altra parte del mondo Cioè si possono affrontare in finale Diciamo di si Boston Lakers Finale 112 pari Quanti supplementari ci saranno Nel Gli? Due dai 8 Ma che 8 2 o 3 Vabbè facciamo 2 E termine del secondo Tempo supplementare Ci prova Sono la bomba Ci sono i rigori Aspetta 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 E se finisci a 112 pari e non lo fai Sfacciamo 112 a 111 per Boston Kobe deve farlo Devi farlo Se no hai perso Attenzione È solo Nooo E i Lakers perdono Finale NBA È finita così È un momento molto triste per Kobe Ha finito la carriera con questo tiro L'arbitro non vedeva L'arbitro non vede Un tifoso ridà la palla a Kobe Perché non era uscita dal campo Ci riprova Eh non è un vizio Ma cazzo Lei possiamo andare avanti così Cioè io non posso sempre Cioè non è che devo fermarlo Attenzione Palla Eh che cazzo mi invento La palla Nooo Ma è un momento tristissimo ragazzi È la fine di una carriera Di una leggenda Finisce così Attestate contro una palla Becca pure il ferro Ci riprova Tristissimo ragazzi Non provare anche a esultare Finisce qui Bosto Non ce l'ha in me Vuoi fare un'intervista Per il tuo fine carriera? Vado a vedere È fatta così Ti guardati di solo Guardiamo Io volevo vedere solo come si chiamavano Non l'ho mai vista Certo da Avrai un alito di merda Questa è male Che odio i video lunghi Fai sentire? Ok Come faccio a far male? No Ah ho scritto tipo questo Stai continuando a fare bibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib out